25 maggio si festeggia dal vostro anti youtuber per eccellenza 25 maggio 2005 la più grande debacle della storia del Milan la più grande debacle dopo l'ultimo derby che vincevano 2 a 0 al primo tempo comunque si festeggia la debacle di Istanbul ma si festeggia l'infortunio di Ibrahimovic perché sapete che su questo canale non c'è fair play su questo canale c'è tanta rivalità su questo canale non ci sono paraculate o pagliacciate del genere quindi godiamo tutti insieme per l'infortunio di Ibra per adesso si parla solo di polpaccio ma si parla anche di una complicazione per il fatto che forse si è danneggiato il tendine d'Achille e non avendo più 15 anni Ibrahimovic a 40-41 anni distruggersi rompersi o lesionarsi il tendine d'Achille è un qualcosa che a noi fa tanto godere si è vero sono stronzo si è vero sono un pezzo di Milan non fa niente ragazzi Ibra si è rotto noi festeggiamo il 25 maggio doppiamente perché il pagliaccio si è rotto e adesso ragazzi non gli rimane che prendersi la fame di La Padula di prendersi... non lo so, non lo so che riprendono La Padula o che riprendono... non so chi, neanche mi interessa l'importante è che si è rotto Ibra che rinizi o non rinizi il campionato Ibra si è rotto un milanista in meno un milanista da insultare in più passo e chiudo se non siete se non siete dei clown come Ibra sentite la rivalità contro i cacciaviti odiate atavicamente la Juve, il Napoli, l'Atalanta iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella e niente e staremo un po' di ore insieme passo e chiudo Ibra si è infortunato godo, godo, godo se state godendo con me iscrivetevi qua sotto cioè iscrivetevi scrivetemi qua sotto festeggiamo tutti insieme perché perché il primo tempo tu vincevi 3 a 0 e alla Coppa ci credevi per davvero perché perché Ibrahimo vi si è rotto il tendine ciao